Per quanto riguarda l'apporto particolare di questa mostra dell'opera di Balthus risiede nel taglio che ho cercato di dargli tentando di focalizzare l'attenzione sul procedimento creativo di Balthus. Ad esempio vi sono vari disegni, vari libri e altri generi di fonti per cui mi sono concentrata in particolare il modo proprio nel quale lui si concentrava sulla questione della pittura e quindi sulla fabbricazione vera e propria dell'opera d'arte perché Balthus è un pittore di immagini spesso si è detto e ci sono sicuramente molti i suoi dipinti forniscono molti stimoli. Però per quanto riguarda il taglio che ho voluto dare a questa mostra ho voluto proprio mostrare l'iter artistico di questo pittore e come evolve anche la sua tecnica pittorica nel corso degli anni perché Balthus lavora sulla sua tecnica in base anche alla sua rappresentazione della realtà che è sempre una rappresentazione mentale a confronto con un'immagine. Ad esempio nel caso del quadro Les Enfants Blanchards è un'opera di un realismo molto secco e molto freddo. Lui aveva dipinto direttamente su un asse di legno con pochissima pittura e questo era proprio per rappresentare questo effetto specifico. Invece in seguito ha sperimentato ad esempio col gesso facendo delle lavorazioni in gesso e i suoi quadri, le sue opere sono poi diventate quindi molto più materiali rappresentando quindi non solo un'immagine ma anche uno spazio per cui avendo un impatto materico più forte. in seguito quando poi è arrivato a Villa Medici è passato invece ad una fase ulteriore nella quale sono importanti il modello il modello sottinteso come fotografie come queste polaroid. A un certo punto creava dei quadri che erano quasi simili a dei disegni del XVII secolo e proprio qui a Villa Medici in veste di direttore dell'Accademia di Francia si è interrogato sull'accademismo, su che cosa volesse dire essere un pittore accademico però l'ha fatto dando un taglio contemporaneo a quest'accademismo ad esempio attraverso l'impiego di queste polaroid che comunque avevano dei colori molto acidi per cui questa diciamo acidità fra virgolette si ritrova anche nella sua pittura e i disegni all'interno dei suoi dipinti così come i quadri pian piano si dissolvono, si disintegrano e questo anche per un motivo fisico perché Balthus non ha mai voluto operarsi di cataratta man mano che andava avanti con l'età iniziavano a tremargli le mani per cui questa sorta di panico davanti alla realtà del tempo che scorreva e della realtà che gli sfuggiva di mano è rappresentato anche attraverso i suoi quadri.